La Polizia di Stato di Trapani, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di quel capoluogo nei confronti di dieci soggetti, tutti residenti in provincia di Trapani, gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo dall'agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. Tra gli indagati raggiunti dal provvedimento anche un ex senatore del Partito Democratico.